Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video facciamo la parte 2 di riorganizzare la mia stanza. Quindi in questo video ci sarà appunto soltanto Matti per chi sistema e organizza la sua stanza. Esatto, avevo già fatto la parte 1, infatti se volete potete andarla a cercare nel profilo o direttamente dal link in descrizione. Esatto, quello era un video dove invece sarà fatto insieme perché sarà sistemato sia la mia sia la sua distanza, con anche il cambermanio e tutto. Esatto, quindi niente, l'ho riorganizzata insieme a voi, quindi niente, vi lascio subito alla parte 2. Ok, allora, direi di iniziare dal comodino, che in realtà dentro al comodino ci dovrebbero stare un po' le cose che servono, le cariche batterie, i fazzoletti, che ne so, un po' di cose così, no? Però dato che nella mia scrivania non ci stanno cassetti per le cose per i capelli, i trucchi e ho troppe cose, ho dovuto adibire questo un po' ai miei cosmetici, i capelli, quindi farò così anche per il primo cassetto. Infatti qua c'erano un po' di cose generali, tra cui carica batterie, un nintendo, un povere, insomma un sacco di cose c'erano, però diciamo che è abbastanza inutile perché tutto ciò non lo utilizzo mai. Quindi voglio realizzare questo cassetto un po' più utile, l'ho fatto con questo, con tutte le mie cosine, e organizzarla appunto con questi contenitori che mi ha avviato Shane, bellissimi. Non vedo l'ora di riempirli perché sono super comodi secondo me, hanno tutti questi vasini che sono piccolini, per le cose che appunto sono piccole, e poi abbiamo anche quelli un po' più grandi, e li andiamo appunto a combaciare come meglio stanno nel cassettino. Quindi non vedo l'ora di iniziare così che tutte queste cose, che sono tutte cose per i capelli, non mi stanno tutte così più appiccicate perché veramente ogni volta che magari vado a prendere una cosa che sta sotto, tutto si sfa e poi adesso lo vedete così tarino ma non dura mai niente. Quindi andiamo a organizzare insieme a voi lì. Non penso che andrò a mettere tutto tutto, però comunque andremo a vedere. Allora quindi inizio a svuotare tutte queste cose che poi dovrò anche capire dove andarle a mettere. Ok allora finalmente ho svuotato e ho pulito, adesso andiamo a posizionare tutte queste scattine. C'è anche un ultimo che è quello più grande e vasto diciamo, però questo cassetto non mi c'entra, quindi lo utilizzerò sicuramente per un altro. Comunque guardate com'è carino, sono troppo soddisfatta. Adesso possiamo finalmente andarlo a riempire. Allora qua ho tutte queste molettine, me ne manca una perché me la rubo con sorella, però secondo me qua sono perfette. Perfette. Bellissimo. Sicuramente dietro, visto che qua c'è uno spazio dove non è molto pratico prendere le cose perché il cassetto più di così non si apre, andrò a mettere questo che è la fascia che è tipo quando vuoi fare skin care o cose un pochino più complesse, quindi la fascia. Poi ho diversi fiocchi, come questi, però a parere personale i fiocchi sono molto più invernali. I fiocchi e questi gommini che comunque sono tutti di velluso li vado a mettere qua dietro. Ok allora ho questi fiocchi, questi che sono quelli lunghi con tutte appunto le fascette lunghe, quindi mi sa che questi lì non li vado a mettere perché sono un po' scomodi. quindi andiamo a riempire finalmente la parte più bella, ovvero tutti questi. Guardate un po' qua, no comunque ragazzi spettacolo veramente. Per me è un sogno vedere le cose così sistemate perché, come avete visto prima, ogni cosa era una sopra l'altra e non mi piaceva per niente. Adesso è proprio un altro livello, i miei cassettini sono bellissimi. Ok allora, visto che qua c'è ancora un po' di sole, rimango in queste frustrazioni. Volevo riempire questo insieme a voi, se lo vedete è un po' bagnato perché l'ho lavato e si asciugherà all'aria. Volevo riempirlo con dei rossettini che mi ha inviato SheGlam. Sono troppo bellini, hanno tutto il pack uguale, quindi devo assolutamente metterli qua dentro. I rossettini in questione sono questi, se mi seguite su TikTok l'avrete sicuramente visti perché li faccio tutte nelle collab con SheGlam e adesso ne deve uscire uno nuovo, quindi mi raccomando, seguiteci su TikTok. E niente, quindi voglio andare a mettere tutti i rossettini qua dentro. Ok raga, allora ci siamo lasciati con il cassetto, oggi invece devo andare a rimediare tutto questo pasticcio. Praticamente tutte queste cose che vedete stavano qua. Come? Non lo so, però vuoi andarlo a organizzare perché io già il contenitore l'avevo organizzato insieme a voi nell'altro video della mia stanza, soltanto a parte che le cose sono aumentate e quindi le ho messo a caso. Poi le cose che già c'erano non erano super organizzate, quindi adesso ho deciso di fare una selezione e capire come organizzarle. Per esempio ho un sacco di cose di cartoleria, infatti sono queste tre, questa scatola, quest'altra scatola nera e poi ho queste cose che vabbè sono le cose principali che lascio là. Quindi siccome sono tutte un po' sparpagiate una nella scatola di un'altra, ho deciso di andare a comprare due scatole trasparenti come tipo queste piccoline, però in versione grande ovviamente, in modo che posso metterci tutto. Allora, sto cercando la scatola, ovviamente ho trovato queste qui che sono grandissime, farebbero a caso mio, soltanto che stavo pensando che se metto tutto qua dentro, se una volta vi serve qualcosa, cioè devo tirare tutto su e non so nemmeno se ce la faccio, però questo ci starebbe, una la prendo sicuramente e poi valuto quali prendere. Posso prenderle troppo alte perché altrimenti non si chiude bene il letto, ne è troppo piccole, quindi insomma adesso valuto e poi faccio vedere a casa cosa ho deciso di prendere. E raga, come avete potuto vedere, sono andata a comprare queste scatole e le ho riempite con le cose per la cortoleria. Alla fine, vabbè, adesso le cose non sono messe benissimo, però una scatola di queste mi bastava. Purtroppo però, una volta che sono andata a mettere sotto il contenitore del letto, erano troppo grandi. Me ne sono accorta dopo perché io non ho controllato le misure con centimetri, quindi niente, queste scatole le utilizzerò per qualcos'altro. E allora sono passata da Ikea e ho comprato questa scatola che era quella che in realtà avevo visto dai sparmio casa dove ho comprato appunto queste scatole. Ho deciso alla fine di prenderne una grande, questa è alta 18 cm, infatti il contenitore ha un'altezza massima di 20, poco di più. E già che ero da Ikea ho trovato questo, che praticamente è un organizzatore per i cassetti, perché il mio cassetto è veramente in condizioni inspiegabili, dopo ve lo faccio vedere e quindi voglio riordinare tutto il cassetto. Quindi io spero che questi organizzatori mi aiutino a tenere tutto più ordinato e preciso e adesso vi faccio vedere com'è il mio cassetto. Ok, allora per farvi un'idea questa è la condizione. In pratica a me fa davvero paura perché ho dato il peggio di me per creare questo, veramente è bruttissimo, non si trova niente, è sprecisissimo. Vi giuro mi fa vergogna farvelo vedere, però è la verità. E quindi questo è quanto, adesso lo sistemiamo comunque insieme e lo organizziamo in modo che non succeda più questo pasticcio. Quindi prima cosa andiamo a riempire la scatola con tutte le cose per la cartoleria e poi andiamo a fare il cassetto. Ok amici, allora ho tolto tutto e ho pulito di nuovo, l'ho fatto praticamente l'altro giorno quando ho registrato appunto il video. A tempo zero il contenitore del letto si sporca, cioè chi avrà il contenitore del letto mi capirà, però è veramente comodo quanto scomodo. Adesso che ho tolto tutto lo vado a riempire, faccio il timelapse e poi magari vi spiego un pochino come l'ho organizzato. Io spero che c'entri tutto, però la vedo dura. Ok raga, finalmente finito. Scusate se sentite il ventilatore in sottofondo, però veramente sto morendo. Qui niente, questo ragazzi è l'organizzazione del mio contenitore del letto. Sono super soddisfatta perché è venuto bene e soprattutto ho tutto organizzato. E niente raga, adesso andiamo a fare il cassetto dell'intimo finalmente. Qua con il mio cassetto. Direi di andarlo a svuotare completamente, pulire e mettere tutti i contenitori. È il momento di scartare questo. Io spero che sia carino e che l'avevo visto da Ikea, appunto, esposto in un cassetto. Quindi niente, spero davvero che posso organizzare tutto. Ciao. 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 raga ma di cosa stiamo parlando c'è il glow up che ha fatto il mio cassetto è una roba assurda sembra che sto a fare una sponsor su questi contenitori però veramente andateli a comprare perché li svoltano guardate qua prima non si capiva niente è anche vero che adesso ho messo un po' meno cose però le altre cose era tutta roba che in realtà non c'entrava niente col cassetto dell'intimo quindi è anche giusto che sia così praticamente qua ho finito di fare tutto mi manca soltanto di riordinare il cassetto dei pigiami tutti gli altri cassetti stanno a posto infatti dopo vi faccio vedere e sistemare queste scatole allora in pratica questa è una scatola un po' dove ci sta il cambio stagione mentre queste sono tutte scatole che sono per organizzare cioè sono tutte scatole vuote infatti chiedo a mia mamma se li servono a mia sorella insomma vedo anche io cosa devo utilizzare e basta poi se proprio voglio essere pignola in pratica ho questo armadio che è la parte invernale che è tutta in ordine poi c'è la parte estiva che anche questa è in ordine e l'unica parte che non mi piace è questa allora in realtà è in ordine qui ci sono praticamente tutti i vestiti per andare a ballare o comunque da sera tacchi e stivali col tacco e l'unica parte che non mi piace appunto è questa i vestiti anche se non mi fanno impazzire ci possono stare però gli oggetti non mi piacciono quindi li devo andare a togliere insomma adesso farò dei timelapse dove andrò a sistemare tutto ciò e poi ho finalmente completato tutto ciao 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 ok raga l'ho sistemato ma probabilmente la stessa cosa di prima comunque va bene lo stesso non mi importa ho tolto le cose della palestra ho messo cappellini e cerchietti perché le cose della palestra stanno dentro ai pigiami sì il collegamento non ci sta però il posto è soltanto lì dentro quindi li metto lì ok raga la mia stanza è finalmente completata sono super happy perché so che dentro ogni cosa tutto è ordinato qui niente raga dato che questi video comunque so che vi piacciono vi posso fare il room tour di tutta la mia stanza almeno vi faccio il tour generale di tutte le cose vi posso dire appunto dove ho preso i mobili così se avete qualche domanda fatemela nei commenti così in quel video posso rispondere e quindi niente raga vi lascio alla fine del video qui niente il video è finito spero che vi sia piaciuto se è così mettete like commentate iscrivetevi al canale attivate le notifiche per non perdere i prossimi video seguiteci su instagram questi sono i nostri g questi sono i nostri tre profili e pure su tiktok questi sono i nostri tiktok e quindi niente raga noi ci vediamo al prossimo ciao 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 Grazie a tutti.